Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Buonasera a tutti e ben ritrovati amici del Trading Club. Anche oggi come ci potete vedere in diretta, nonostante il giorno festivo, non vi lasciamo mai soli perché i mercati comunque sia, come sappiamo, non dormono mai. Questa sera in particolare che cosa andremo a vedere? Vediamolo insieme. Allora, Trading Room, ovvero dietro la crisi un'opportunità, quindi qualche minuto come sempre dedicato un po' a questo speciale che stiamo portando avanti in questi ultimi giorni, in questa nostra promozione. Poi lo Strategy Starter Pack opzioni, quindi la strategia in opzioni del giorno e gli ordini OCA tra due strategie diverse. E se alla fine è il laboratorio in opzioni dove faremo un po' una panoramica con i risultati del 2020, nuove opportunità, anche se in realtà questa sera, visto che questa parte l'abbiamo trattata anche la settimana passata, preferirei soprattutto proiettarmi e proiettarci, visto che la parte in opzioni la curo prevalentemente io, in quello che potrà essere anche il 2021. Quindi capire un po' che cosa ne sarà di noi. Ma prima di tutto, come sempre, il nostro nuovissimo video. Siccome siamo in diretta da tanti anni, ovviamente avete anche la possibilità di rivedere le sessioni registrate dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Quindi trovate qui nel link in descrizione la playlist su YouTube dove vedete soprattutto le sessioni un po' più calde, se vogliamo. Cioè quando il mercato verso febbraio-marzo crollava del 20-30% in un solo mese, potete vedere anche come abbiamo gestito tutte quelle situazioni e come abbiamo comunque continuato ad ottenere dei risultati positivi, nonostante la situazione non fosse particolarmente semplice. Il tutto con la massima serenità. Tutto questo vi permetterà di risparmiare fino a 1.500 euro sulla vostra formazione iniziale, grazie a tutta quell'esperienza che altrimenti da soli purtroppo si acquisirebbe in veramente tantissimo, tantissimo tempo. Queste sono due settimane speciali, sono già iniziate la settimana scorsa, quindi andiamo verso il termine con questa settimana perché diamo la possibilità a tutti di seguirci anche nei laboratori operativi che generalmente sono riservati solamente agli abbonati. Il motivo per il quale facciamo tutto questo, c'è questa promozione, ce la possiamo permettere, è quello fondamentalmente di starvi vicino in un momento che comunque è per tanti di grande difficoltà economica ma anche di salute mentale perché ci rendiamo conto che tanti mesi in questa situazione possono portare anche a qualche malessere in più. Tuttavia nonostante l'anno negativo, se vogliamo, a livello economico e globale, devo dire che i nostri numeri comunque sono cresciuti ancora, abbiamo più di 5.000 clienti attivi nella Trading Investing Academy, più di 6.000 iscritti al nostro canale YouTube con migliaia di visualizzazioni giornaliere ma soprattutto la cosa che più ci fa orgoglio anche in questo periodo sono le tante recensioni che ci avete lasciato tanto su YouTube quanto su Trustpilot dove sono tutte certificate. Quindi qui mi rivolgo anche a chi magari è un pochettino scettico, lo posso assolutamente capire, comprendere, però come vedete noi siamo in diretta ogni giorno e come vedete le persone ci lasciano sempre delle buonissime recensioni certificate. Quindi come dico sempre, non fidatevi di noi affidatevi di quello che diamo l'opportunità poi di andare a vedere. E tra l'altro nonostante tutte queste difficoltà nei prossimi anni ci espanderemo ancora sia a livello nazionale che internazionale, quindi restateci vicini che ci saranno tante sorprese per i prossimi mesi, i prossimi anni. E se abbiamo l'opportunità di fare tutto questo lo dobbiamo a voi. A voi che ci avete supportato durante tutti questi anni ma soprattutto durante quest'anno. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di farvi questo regalo, quindi la possibilità di seguirci anche nei laboratori operativi, quindi diretta su YouTube dalle 20.45 alle 21.45 circa. Prima di proseguire oltre ci tengo sempre a fare riferimento a un articolo che è uscito sul Sole 24 Ore dove si parla della proliferazione di nuove realtà di brocheraggio che purtroppo molto spesso vi ludono con guadagni facili per poi scapparsene con i vostri risparmi. Queste persone si approfittano della fragilità e magari in alcuni casi anche dell'ingenuità delle persone per derubarle letteralmente. Quindi quello che noi veramente vi vogliamo invitare a fare con il cuore in mano è di prendere informazioni sui broker broker oppure su quei educatori che vi promettono guadagni miracolosi senza sforzo. Ecco, affidatevi solamente a chi come noi fa questo da tanti anni, ci mette la faccia e vi fa vedere che le cose, oltre che a spiegarle, le mostra sui propri conti. Andando avanti con la sessione, quindi volevo riprendere un po' da dove ci siamo lasciati perché vi ricordate abbiamo parlato nei giorni scorsi di quello che è stato ed è attualmente perché non si sta comunque ancora arrestando il movimento dei mercati azionari. Noi in genere guardiamo il mercato azionario americano che è il più grande al mondo ed è quello che ci dà una vera idea di quello che accade poi in tutto il mondo che comunque essendo assolutamente globalizzato tende a seguire ovviamente gli Stati Uniti. E come abbiamo già fatto vedere abbiamo uno Standard & Poor's che dal primo gennaio, quindi il nostro indice azionario di riferimento, è in positivo di più del 13% oramai. E questo è veramente un dato importante e che un po' cozza, diciamo, fa botte con quelli che sono i dati economici che abbiamo visto negli ultimi giorni. Quindi con un PIL anche americano che continua a scendere, la disoccupazione in aumento, la sfiducia in generale di tutti i risparmiatori eppure un mercato azionario che è in continua crescita. E quello che ci preme fare non solo nelle trading room ma anche e soprattutto nei laboratori operativi che sono veramente un po' l'iceberg poi di quello che noi andiamo a fare. Sapete come è fatto un iceberg? C'è la punta che è la trading room e poi c'è tutta la parte sotto che per noi sono i laboratori operativi. Quello che per noi è importante non è solamente vedere quello che succede, certo questo è importante, ma è molto importante anche capire le motivazioni, cioè anche capire un perché abbiamo un mercato azionario così forte, l'abbiamo visto ad esempio per le varie iniezioni di liquidità quasi senza fine da parte della Federal Reserve, degli stimoli economici direttamente da parte della Banca Centrale Americana che abbiamo detto che ha versato da subito centinaia e centinaia di dollari ogni settimana a tutti coloro che hanno smesso di lavorare, tant'è che addirittura c'è chi sta guadagnando di più in questo modo piuttosto che andare effettivamente al lavoro. E quindi l'importanza del contesto però non è solamente questo che giustifica alcune cose. Infatti vi volevo mostrare due casi veramente particolari per quanto riguarda l'andamento dei mercati azionari. Abbiamo detto che con quest'anno, con il 2019, a fronte di un primo momento se vogliamo di scoramento dei mercati che c'è stato a marzo, lo vediamo anche qui su Tesla, quando le sue quotazioni sono passate da circa 175 dollari per azione per arrivare a circa 75, quindi ha perso più della metà del suo valore, però poi c'è stata una ripresa veramente enorme, furibonda, che ha proprio iniziato quando la Federal Reserve ha iniziato chiaramente a stampare denaro. Tuttavia non si giustifica questo movimento, adesso abbiamo preso Tesla, poi ne vedremo un'altra, ma vale veramente per tantissime azioni, non si giustifica un movimento dell'800% in una situazione economica come questa. Questo riguarda Tesla, ma non perché ce l'abbiamo con Tesla, perché ad esempio abbiamo anche Zoom, che noi per primi adoperiamo come tecnologia. Qui faccio sempre la battuta che se avessi investito anche io, quando abbiamo iniziato ad usarlo noi come azienda, vedete, a dicembre il titolo quotava poco più di 50 dollari, per poi arrivare, guardate, quasi a 600. Cioè, ha avuto una crescita dall'inizio dell'anno di circa il 1000%. Certo, Zoom è un ottimo strumento, una crescita era prevedibile anche perché, soprattutto con lo smart working, con il telelavoro, per chi magari non è abituato a questi termini inglesi, ha avuto sicuramente un grosso utilizzo, una grossa crescita, ma assolutamente non tale da giustificare queste quotazioni. Io so, per dare un'idea, Tesla ormai capitalizza non so se 10-15 volte più di Ford, pur producendo forse un centesimo delle automobili. Così come Zoom, che è arrivato a capitalizzazioni enormi, eppure essendo un'azienda assolutamente nuova e non ancora così capitalizzata. Tutto questo sappiamo perché avviene? Avviene spesso perché il mercato, comunque sia, il valore che ha il nostro mercato azionario non è tanto valutato sulla situazione attuale, ma su una proiezione del futuro. Il problema è che poi se questa proiezione del futuro viene meno, Zoom, come è arrivato a 600, è capace di tornare a 50 o 60. E qui non è che se Zoom torna a 50 o 60 significa che l'azienda è fallita, assolutamente no, perché comunque ricordiamoci che c'è la capitalizzazione di mercato, quella reale, il valore reale dell'azienda, e poi quella finanziaria, che spesso non solo non è simile, ma è molto lontana da quella che è la realtà. Tant'è che, qui vi consiglio di vedere magari video base per quanto riguarda le azioni in beta trading, spesso accade che il rapporto, il rapporto che viene definito come price earnings, cioè tra il prezzo e gli utili, è molto superiore rispetto a 1. Diciamo che un livello accettabile è intorno ai 20, cioè un titolo che capitalizza 20 volte di più, però a volte lo vediamo addirittura superiore ai 100, ai 200, ai 300, e chiaramente questo ci deve far suonare una piccola campanella d'allarme. Qui ripeto, non è che Tesla e Zoom falliranno, assolutamente no, però non è impossibile che ritornino sui valori di marzo e di inizio anno, assolutamente no, non significa che falliranno queste aziende. E qui vi voglio un attimo mostrare anche un grafico per far meglio comprendere anche che cosa significa una bolla azionaria e come poi va anche a funzionare una bolla azionaria, cioè quando i valori fondamentalmente, quando abbiamo un aumento, anzi abbiamo qui la slide, una bolla che cos'è? Un aumento anomalo del prezzo di un bene o di un'attività reale piuttosto che finanziaria non giustificato dall'andamento dei fondamentali di mercato e tipicamente accompagnato poi da alti volumi di scambio a cui fa seguito un crollo dello stesso nella fase di scoppio della bolla. A chi, diciamo, ama un po' la finanza, sarà capitato di vedere la prima bolla, se vogliamo nota, neanche da un punto di vista finanziario, era la bolla dei tulipani, quando nel fine 700 è scoppiata questa febbre dei tulipani, dei boccioli, dei tulipani olandesi, dove praticamente il valore di un bocciolo era arrivato praticamente all'equivalente di uno stipendio annuo di una persona normale dell'epoca, quindi un po' come se adesso un bocciolo arrivasse a valere 20-30 mila euro magari. Chiaramente poi una volta arrivato al massimo è ritornato sui valori precedenti e qui i casi sono due, o ci si arricchisce tantissimo oppure ci si imponerisce moltissimo, dipende sempre dal timing che poi si va ad avere. Un esempio allora di come funziona una bolla, abbiamo questo grafico che non vi ho ancora detto di che cos'è, come vedete questo grafico, novembre 97, vi ricordate, qui, diciamo per chi è un pochino più giovane sicuramente no, però tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 ci fu una vera e propria bolla sull'indice tecnologico americano ma in generale un po' in tutto il mondo. E che cosa comportò questo? Comportò fondamentalmente un aumento dei prezzi di tutte quelle aziende che investivano online a livelli completamente folli e fuori dai loro fondamentali. Un esempio italiano era stata Tiscali, che era arrivata, pensate, una piccola azienda online di informatica era arrivata a valere più della Fiat per poi rientrare nel giro di poco tempo. Quindi anche qui c'è stata una bolla. In questo titolo, come vedete, nel novembre 97, alla fine degli anni 90, valeva più o meno una sessantina di dollari. Nel giro di poco tempo, quindi nel giro di un anno circa, vedete novembre 98 più o meno, è arrivato a valere 360 dollari. Poi questi sono candele mensili. In un mese solo è passato da 350 a 360 per ritornare a 110. E poi piano piano, guardate, non solo si è rimangiato tutta la salita, ma è tornato addirittura a 10 dollari di valore. Quindi praticamente da 60, 360, fino a 10. Quindi è chiaro che se uno l'ha preso 60 e l'ha venduto 360, ha fatto bei soldi. Il problema è che non si può mai sapere quando scoppierà una bolla. E di conseguenza, se uno invece l'ha preso 350 e l'ha chiuso a 10, purtroppo ne avrà persi molti, molti di più rispetto a chi invece l'operazione l'ha tenuta. Anche perché a livello psicologico è difficile lavorare in queste situazioni. Perché la mente umana è portata a chiudere i profitti e a lasciar correre le perdite. Perché mentalmente diciamo, sì, vabbè, ma prima o poi la situazione si girerà. Ecco, questa è esattamente come funziona una bolla. Ma se gli dicessi che questo titolo, poi con gli anni, è arrivato a valere diversi migliaia di dollari per una sola azione, che cosa pensereste? Uno potrebbe pensare che dice, cavolo, se da qui è andato qua, probabilmente è fallita l'azienda. Invece no, proprio perché, come vi dicevo, il valore azionario non sempre rispecchia poi il valore di una azienda. Questo titolo che state vedendo era, ed è Amazon. Amazon che poi negli anni sappiamo bene a che livello è arrivato. Cioè da 10 dollari, per chi l'avesse comprato nel marzo 2001, è arrivato a valere 3.000 dollari, insomma, livello più o meno attuale. Quindi, quando un titolo scoppia, non significa che sia un titolo fallimentare, ma semplicemente che sta rientrando nell'ordine naturale delle cose. E tutto questo, quindi, al di là di questi capitali, ecco, che si sono mossi nei confronti dei mercati azionari, ma come è potuto succedere tutto questo? Questo dovete sapere che è stato l'anno dove i piccoli investitori l'hanno veramente fatta da padrona. Ma c'è stato un boom di quelli che sono i piccoli investitori rispetto magari ai grandi fondi azionari. Io volevo fare un esempio che avrete, tanti hanno già avuto modo di conoscere nell'arco di quest'anno, ovvero un'app che ha cambiato il modo di giocare in borsa. Milioni di persone hanno cominciato a comprare e vendere azioni grazie a Robinhood. Robinhood è un'app che permette di acquistare e vendere. E non è l'unica, altre app di brocheraggio sono uscite. Che tra l'altro sono state accusate di aver reso tutto troppo facile, quindi di semplificare tantissimo. E questo è il motivo per il quale soprattutto le aziende tecnologiche sono cresciute così tanto. Perché pensate che c'è negli Stati Uniti un esercito di milioni e milioni di persone, soprattutto ragazzi o comunque under 30, che si sono ritrovati da un giorno all'altro a casa senza far niente e con soldi dati dallo Stato. Ecco, tantissimi di questi che voi ci crediate o no, magari a differenza anche di quello che è un po' il modo di essere che abbiamo noi italiani, che siamo più risparmiatori, un po' più timorosi, ecco tanti di loro hanno usato questi soldi per investirli in borsa, quasi annoiandosi. E quindi hanno contribuito a pompare il mercato oltre ogni limite. Il problema di quando questi grandi investimenti vengono fatti da piccoli risparmiatori è che poi c'è un lato estremamente irrazionale rispetto ai grandi investitori. Perché sicuramente avranno tutti acquistati presi dall'onda dell'entusiasmo. Ma il problema è che quando poi il mercato inizierà a stornare o a scendere un po', così come è cresciuto rapidamente, potrebbe scendere altrettanto velocemente. Ora, non vi sto dicendo che succederà, ma quando succederà, cioè scusate, non vi sto dicendo quando succederà, ma sicuramente prima o poi dovrà accadere. E quando accadrà sarà altrettanto rapida anche la discesa. Perché questi sono i mercati moderni, mercati estremamente rapidi, un po' come la vita che ci troviamo ad affrontare, sempre più veloce, sempre più frenetica. Lo stesso vale per i mercati. Quindi mi raccomando, fate attenzioni, fate scelte che siano ponderate e non frutto dell'emotività. Per lasciarvi, come sempre, con una piccola citazione, oggi abbiamo Karl Popper, che diceva, la vera ignoranza non è la mancanza di conoscenza, ma il rifiuto di acquisirla. Quindi è sempre importante educarsi in qualunque cosa si va poi a fare nella vita, tanto che sia nei mercati finanziari quanto qualunque altro tipo di cosa, per evitare poi di farsi cogliere impreparati. Ora, andando avanti con la nostra sessione, abbiamo Strategy Starter Pack in opzioni, quindi il nostro primo passo per iniziare ad uscire un po' magari da questa ignoranza, per passare dalla teoria alla pratica, quindi iniziare a mettere le prime operazioni sulla piattaforma simulata, a testarle e a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Questa sera si parla di opzioni, quindi andiamo con lo Strategy Starter Pack, dove andremo a vedere gli ordini OCA e come costruire un vertical in opzioni. Ma per questo lascio la parola e la linea alla nostra Noemi. Buonasera a tutti anche da parte mia. Grazie mille, come sempre, per l'introduzione. Ricordo a tutti che le strategie che andremo a vedere all'interno del nostro Strategy Starter Pack sono sempre prese dal nostro Trading Report. Per chi non conoscesse ancora il Trading Report, potete trovare il link in descrizione a questo video per poter chiedere la vostra copia gratuita. In particolare, oggi andremo a vedere una strategia in opzioni, un bull put su Amazon, per andare a spiegare come poter utilizzare il gruppo OCA, questa volta non per andare ad inserire un take profit ed uno supploss, ma per poter farci aiutare dal mercato nella scelta della migliore operazione da poter inserire. In particolare, andiamo a vedere un bull put 2.920-2.900, però per farciò e per spiegare questo concetto andiamo a prendere, come sempre, la nostra piattaforma simulata. Qua abbiamo già costruito una combinazione bull put, mensilità febbraio con strike 2.920-2.900 per Amazon. Come utilizziamo questa modalità di aiuto per l'ingresso a mercato? Ci possono essere veramente tantissime casistiche, per esempio, siamo indecisi nella scelta degli strike, quindi magari non ci piacciono 2.920-2.900, ma siamo indecisi con un'altra coppia, oppure la coppia ci piace ma siamo indecisi su due scadenze, sempre della stessa strategia, oppure ancora abbiamo due strategie molto simili per due azioni che fanno parte di uno stesso comparto, di uno stesso settore, per cui non vogliamo inserire entrambe, ma vogliamo semplicemente entrare sulla prima che ci dà l'occasione migliore. Come fare questo? Una strategia l'abbiamo già costruita, l'altra l'andiamo a costruire adesso, quindi prendiamo come esempio sempre la coppia 2.920-2.900, però utilizzando due scadenze differenti della strategia. Quindi prendiamo come sempre l'option trader, prendiamo questa volta la scadenza di marzo, andiamo a selezionare comunque gli stessi strike, quindi 2.920-2.900, andiamo a costruire la combinazione, quindi con il trascinamento coppia gamba per gamba, ok, cancelliamo gli strike che non ci interessano, ma qua abbiamo quindi la stessa strategia ipotizzata su due scadenze differenti. Quando vogliamo inserire un ordine, facciamo sempre come abbiamo fatto con il tasto destro vendere, andiamo ad inserire se per la prima scadenza vogliamo prendere almeno un premio di, di, per esempio, 100 dollari, quindi un prezzo di 0.1, di 1, scusate, ovviamente rapportato al ritorno sull'investimento per il periodo da qui a febbraio, dobbiamo comunque sempre calcolare anche la quantità di giorni che dura la strategia per calcolare il ritorno sull'investimento, dobbiamo inserire per questa strategia, oltre a DTC e al prezzo che ci interessa, anche l'ordine OCA. Andiamo su varie, gruppo, one, cancel and other, andiamo ad inserire la sigla che andremo a mettere anche per la strategia successiva. Clicchiamo su accetta, quindi l'abbiamo inserito all'interno della nostra piattaforma, andiamo sulla seconda strategia, quindi andiamo in questo caso anche sempre a vendere, ad impostare i nostri parametri, 1.5, perché vogliamo prendere un premio di 150 dollari dal momento che abbiamo un mese in più, la quantità sempre la stessa, sempre GTC, andiamo di nuovo su varie, perché dobbiamo inserire la stessa sigla che abbiamo inserito prima per poter agganciare entrambe le strategie. quindi anteprima, i parametri che abbiamo inserito ci piacciono, clicchiamo su accetta, quindi in pratica il gruppo OCA collega sempre delle operazioni, queste operazioni non devono essere per forza riferite all'uscita, quindi alla chiusura di un trade relativo ad una stessa operazione, ma possono collegare qualunque cosa. L'importante è ricordarsi che tutte le operazioni che sono collegate tra di loro saranno soggette all'esecuzione di una, di qualsiasi delle operazioni che hanno lo stesso codice. Quindi cosa succederà? Se le condizioni di mercato faranno sì che il prezzo 1 venga raggiunto prima dell'uno e mezzo, quindi l'uno della scadenza di febbraio, rispetto all'uno e mezzo della scadenza di marzo, verrà trasmessa la strategia di febbraio, verrà automaticamente cancellata quella di marzo, e viceversa. Ovviamente possiamo applicare questo tipo di strategia, come sempre, per qualunque altra situazione e anche per qualunque altra operatività, perché questo non significa che solamente per le opzioni possiamo utilizzare il gruppo OCA per l'ingresso al mercato, ma anche per le operazioni spread trading e quelle in azioni in beta trading. Per questa serie è tutto, io vi aspetto domani dopo domani con altro paio di accenni per quanto riguarda il nostro strategy starter pack. Andremo a vedere come utilizzare la trailing stop e andremo ad accennare qualcosa inerente al tasso commissionale e allo stock yield enhancement program. Grazie mille Noemi. Adesso andando verso la conclusione della nostra trading room, vi lascio con gli appuntamenti di domani, perché vedremo il commodities spread trading, quindi con il nostro Matteo Anelli, quindi per trader che cercano un vantaggio statistico con le materie prime, e poi avremo il laboratorio a seguire proprio in spread trading, quindi il nostro portafoglio e risultati sul nostro conto reale e credo anche qualche piccola ispirazione per il 2021. Vi ricordo inoltre che abbiamo anche la promozione, quindi promozione attiva per quanto riguarda il trading club, il 10% di sconto, sul trading club, qualunque trading club, che sia opzioni, commodity spread, azionario, intraday, e poi la possibilità di accedere ovviamente ai laboratori operativi, sempre e non solamente nei periodi promozionali. Per aderire basta cliccare sul link in descrizione e avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Adesso restate collegati, perché a breve ripartiamo con il laboratorio operativo in opzioni. Ho, 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 ho. Grazie a tutti.